Signori, bella bionda e dice sempre sì. Alec Baldwin in un film del 1991, quindi era giovane, era magro, assieme a Kim Basinger, che in qualità di attrice non mi sembra che ne abbia molto, commedia piuttosto ripetitiva, voto 6, niente di eccezionale, onestamente a parte la Basinger che è carina. Un saluto a tutti, se volete iscriverti al canale e se volete lasciate un like. Ciao ciao!